Arezzo sotto i Savoia Il Regno d'Italia si presenta così agli Arretini, sotto il segno del progresso e della modernità. Arriva la ferrovia, che impiega tantissimi manovali, sventrate le strette vie medievali per motivi igienici. C'è la grande esposizione industriale, dove vengono presentate le prime macchine cingolate con motori a vapore e da scoppio, che alleviano la fatica secolare dei braccianti, facendo il lavoro di 30 di loro. Arriva anche la corrente elettrica, che in città abolisce il chiar di luna. L'uomo non ha più ragione di essere cattivo, abbrutito dal duro lavoro, quindi nel nuovo manicomio lombrosiano si cerca di misurare i crani, conservati ancora oggi in archivio, per capire la causa scientifica della delinquenza. Sorgono le grandi banche di Via Roma, che finanziano la nuovissima civiltà industriale. Grandi strutture pubbliche, caserme, scuole, musei, ospedali, nascono negli edifici sequestrati agli ordini religiosi, portando a termine quanto iniziato dai Lorena in odor di rivoluzione francese, proseguito dal Napoleone, che però porta le opere d'arte a Louvre. Gli ordini religiosi che hanno dato vita alla città sono adesso considerati un corpo estraneo da eliminare. È la scienza positivista il nuovo dio dell'epoca. Al 1789 risale una pianta della città conservata nell'archivio di Monsignor Raffaello Funghini. È su scala e ci dà l'ubicazione precisa dei moltissimi monasteri, conventi, ospedali e compagnie che esistevano in Arezzo e che furono in grandissima parte soppressi dal Leopoldo I nel 1785, da Napoleone nel 1810, dal governo di Vittorio Emanuele II nel 1866. I Savoia, da secoli abilissimi nel cambiare casacca per ottenere vantaggi, prima si appoggiano ai liberali, prima di destra, poi di sinistra con Giolitti, fino alla Prima Guerra Mondiale. Ottengono così il completamento dell'unità nazionale, Trento, Trieste, Istria. Poi puntano tutto sul fascismo, da cui ottengono l'impero africano, Abissinia, Eritrea, Etiopia, Somalia, conferma della Libia, ma anche l'inimicizia della regina d'Inghilterra, che li farà cadere dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco il racconto dei primi anni di governo in Arezzo fatto da Monsignor Angelo Taffi, Virgolette Aperte Quanto successe ad Arezzo nel 1882 è chiara riprova dell'entusiasmo degli aretini per le nuove prospettive aperte dal progresso scientifico e tecnico. Con grandissima solennità si celebrò il centenario della nascita di Guido Monaco. Il giovane Ubaldo Pasqui pubblicò per l'occasione la sua guida storico-artistica della città, la prima che abbia carattere scientifico. Per la stessa occasione si tennero in Arezzo un concorso agrario regionale ed una mostra industriale. Il primo si tenne nella Piazza del Popolo, Palazzo di Badia, edifici di Via Garibaldi di fronte alla Piazza del Popolo e si articolò in una vasta gamba di interessi taluni di modernissimo respiro. Locomobili, trebbiatrici, sgranatrici, macchine e ernesi agricoli, animali da cortile e da colombaia, insetti utili, animali bovini, suini, ovini, equini, tettoie per paglie e foraggi, concimi, fiori. La mostra industriale fu tenuta nei locali a pian terreno del grande edificio annesso alla chiesa di Sant'Ignazio e si articolò in industrie estrattive, industrie chimiche ed affini, alimentari, ceramiche e vetreria, carta, tessili, arti usuali, liberali e belle arti, strumenti musicali. Al teatro Petrarca fu più volte eseguito il Mephistofele di Enrico Boito, con intervento dello stesso compositore. A leggere il programma di tutte le celebrazioni che si tennero ad Arezzo nel settembre 1882, si rimane veramente meravigliati. Concorso regionale di ginnastica, conferenze musicali, concorse in tondo nell'Anfiteatro del Prato, congresso internazionale di canto liturgico, esposizione di libri antichi, di canto corale, spettacoli equestri, conferenze pedagogiche, concorso nazionale di strumenti musicali, mostra didattica provinciale. Tutto culminò nell'inaugurazione del monumento a Guido Monaco, uno spettacolo particolarmente sottolineato dai manifesti. Nelle prime dieci sere della festa, la piazza Umberto, la via e la piazza Guido Monaco saranno illuminate a luce elettrica. Arezzo, lì, 21 luglio 1882, il sindaco, avvocato Ettore Nucci, chiuse virgolette. Tra tanta luce e una sola ombra, i manifesti ufficiali non menzionarono neppure una funzione religiosa. Forse è troppo il pretenderlo dalle anticlericali autorità cittadine del tempo, anche se si celebrava in fin dei conti un grande monaco. Si vollero però da tutti, nella seconda metà dell'Ottocento, il restauro del Tempio di Santa Maria della Pieve e nei primi del Novecento la nuova facciata della Cattedrale ed il restauro della Chiesa di San Francesco. E in quest'ultimo Tempio, riaperto al culto, si celebrò nei tristi anni della Prima Guerra Mondiale, ogni domenica, la commovente e frequentatissima Santa Messa del Soldato. A Rezzo, sotto la monarchia costituzionale Sabauda, conobbe momenti esaltanti e drammatici. La scienza e la tecnica portarono ad un baby boom, soprattutto nei primi anni del Novecento, durante l'età giolittiana. Nuovi compiti, come l'istruzione elementare obbligatoria dal 1876, nuove scuole, nuove tasse. Ma ci fu anche un sindaco assassinato. Il triste fenomeno dell'immigrazione fin nel lontano Canada, il dramma del primo bombardamento aereo subito dalla città. I Savoia seppero conquistarsi il favore popolare, permettendo al Comune di espandersi nella più vasta compagine dello Stato nazionale italiano, alla pari con gli altri 8.000. Se soggezione a Firenze ci fu, essa avvenne soltanto durante il periodo di capitale d'Italia, dal 1865 al 1871, e portò anche vantaggi. La ferrovia per Roma, per esempio. Il cantiere della ferrovia dette lavoro non soltanto ai manovali locali per la messa in posa, ma anche ai lavoratori del legno per le traversine ed ai metallurgici per i binari. Fu il più grande cantiere mai visto sin dai tempi della costruzione del Duomo. I Savoia poi si arruffianarono gli aretini finanziando il cantiere per dare una facciata al Duomo, come avevano già fatto nel 1887 con quello non finito del capoluogo. Ma non furono tutte rose e fiori. Gli anni dell'Ottocento, dopo l'unità, videro la nuova classe dirigente liberale impoverire il popolo con una esosa tassazione diretta ed indiretta. Sono gli anni dei grandi sventramenti alla Haussmann in Parigi, via i vicoli medievali, angusti e difficili da espugnare in caso di rivolta, con le strade strette facilmente asserragliabili con un po' di mobilio e qualche materasso, tutte curve di indiscesa, per cui ad un assalto di corsa dall'alto, col nemico sempre dietro l'angolo che ti appare all'ultimo momento, superiore di numero e per rabbia nel corpo a corpo, c'era anche da avere la peggio, essendo impossibile schierare i cannoni. Grossi cantieri da città moderna, ma anche grossi danni alla città medievale, come a Firenze. Il nome di un medioevo da cartolina, come quello romantico di Viollet-Leduc, tutto gotico ad archi acuti, si distruggeva quello vero. Nasce via Guido Monaco, che avrebbe dovuto tagliare a metà l'intera città, dalla stazione al Duomo, per farci manovrare la cavalleria contro le rivolte per troppe tasse, e che per fortuna si fermò in piazza San Francesco, progetto che stavolta anticipa Firenze, che avrà il collegamento diretto stazione centrale Duomo solo negli anni Trenta, con Michelucci, che ad Arezzo negli stessi anni costruirà il palazzo del governo. E poi, il decumano ottocentesco di Via Crispi, che valorizza anche il corso, sede delle principali banche ed istituzioni borghesi di allora, strada abbastanza larga e piana per attuare una eventuale repressione alla Bava Beccaris in Milano. Ancora oggi, queste due strade mostrano i migliori negozi della città, ed allora furono le prime strade moderne, con illuminazione pubblica ed appartamenti ed alberghi, con acqua corrente, fredda e calda, luce e gas. Anche a Firenze era successo lo stesso qualche anno prima, mentre ad Arezzo lo sventramento della città medievale e la riproposta di un Medioevo idealizzato e ripulito nel suo ventre molle proseguirà per tutti gli anni Trenta del Novecento. A Firenze la distruzione della città medievale era iniziata durante il periodo 1865-1871 per poi assestare il colpo di grazia col piano regolatore del 1890, tanto che un mio amico storico dell'arte, il Corsi, parla addirittura di distruzione di Firenze, voluta dai massoni per creare il centro direzionale ottocentesco, facendo fuori il mercato vecchio delle erbe, il ghietto ebraico, chiese, case e vicoli alle spalle dell'arco di piazza della Repubblica. Ad Arezzo succede, vedremo lo stesso, da un qualche anno di ritardo, gli antichi cittadini poveri vengono cacciati dalla città murata, espropriati alla bella e meglio e costretti a ritirarsi in anonime periferie funzionaliste dove la bellezza architettonica sembra bandita in nome di un utile democratico uso degli spazi, strade magari anche ortogonali, ma soprattutto dormitori all'inizio senza nemmeno una piazza. Con Giolitti la società si democraticizza ed in occasione della guerra di Libia nascono i primi partiti politici moderni. Arezzo dà il suo contributo lanciando un esponente di importanza nazionale degli azzurri, il colore di casa Savoia, un fondatore del neonato partito nazionalista, Pier Lodovico Occhini. Nasce così la destra moderna, popolare, che non ha nulla a che vedere con la destra storica liberale che ha governato nei primi anni dell'unità in modo elitario e censitario, provocando anche in Arezzo alcuni casi di emigrazione a fine secolo. Poi, la prima guerra mondiale, voluta dal colpo di stato della massoneria che firma a Londra un patto segreto, per far entrare l'Italia in guerra nonostante l'opposizione di socialisti e cattolici. Nel primo, dopo guerra, un'ottima classe dirigente locale sarà fatta fuori con le maniere forti dai fascisti. Tra i socialisti si ricordano Donato Badì, Ferruccio Bernardini, Luigi Bosi, Costante Citernesi, Giovanni Gatteschi, Luigi Mascagni, Arnaldo Pieraccini, medico che compierà una importante riesumazione dei medici alla ricerca di vecchi avvelenamenti. Tra i popolari, Luigi Brizzi, Giovanni Guillichini, Alberto Ferrini Baldini, Giacomo Matteini, Federico Nomi, Vincenzo Schilli Rò, Quinzio Sisi. Tra i liberali, Mario Carabini, Carlo Nenci, Giuseppe Serafini. Tra i demo sociali, Guido Cappelletti è donato Peruzzi. Nel dopoguerra, anche ad Arezzo, il partito nazionale fascista prende il potere con l'uso della forza bruta appresa in trincea. Nonostante i socialisti si fossero distinti come soldati scelti in prima e seconda linea. Ma certe volte è l'aiuto economico dei magnati che fa la differenza. I cattolici popolari di Don Sturzo provano a fare da baceri, ma il clima è troppo incandescente. I vecchi liberali pensano di aizzare gli opposti estremismi fra di loro per poterli dominare, indeboliti con i carabinieri regi, inconsapevoli di avere aperto un vaso di Pandora che li annienterà come forza politica autonoma. Vediamo insieme, come al solito, alcune eloquenti date e dati. 1864 nasce la linea ferroviaria a Rezzo-Firenze e perciò il mercato vaccino si sposta a Porta Trento e Trieste. 1867 primo tremendo sventramento coevo a Firenze. La nuova e diritta e larga via Guido-Monaco abbatte di tutto, compresa la chiesa di San Rocco e parte del convento di San Francesco. Come per il carducci dell'inno a Satana, il treno appare segno di progresso irrefrenabile e si cerca di creare un viale che lo congiunga al Duomo, come a Firenze, con via dei Cerretani, quasi a mo' di sfida. I negozi moderni più belli ma anche bagni pubblici, esercizi commerciali, residenze borghesi affollano il nuovo viale ieri come oggi. 1868 copertura del fiume Castro 1883 cade in un attentato Pietro Gori, ultimo gonfaloniere e primo sindaco della città. Era stato presidente della società democratica progressista nonché presidente della società operaia del mutuo soccorso. 1893 con tre anni di ritardo su Firenze il nuovo piano regolatore porta con l'illuminazione pubblica anche il primo manicomio della città. Indetto anche il concorso per dare una facciata al Duomo dal 1900 al 1914 si lavora ed il 2 agosto Ferdinando Umberto di Savoia inaugura la nuova facciata in rappresentanza del re. In pieno novecento si compie una rilettura medievalista che abbellisce i palazzi in migliori condizioni evitandone così l'abbattimento. ne sono autori gli ingegneri Umberto Tavanti e Giuseppe Castellucci sempre loro dal 1914 al 1924 compiono il discusso restauro di San Domenico che porta al martellamento di tutte le superfetazioni secentesche barocche per riscoprire l'originaria forza della fede medievale. Del 1925 nasce il nuovo quartiere di Saione iniziando dalla chiesa delle stimmate di San Francesco dal dimesso neogotico che non riesce a nascondere la sua giovinezza. Il quartiere ci cresce intorno come nel Medioevo con palazzine dalla facciata in pietra. 1906 con la Sacfem ribattezzata il Fabricone nasce l'industria retina che diffonde a livello di massa i prodotti artigiannali locali. 1910 la città inizia ad allargarsi fuori le mura la grande quantità di argilla un tempo usata per i famosi vasi adesso genera la fortuna della fornace dei fratelli Bisaccioni che fornisce mattoni da costruzione 1910 l'aretino Pierlodovico Occhini futuro podestà e senatore è tra i fondatori del congresso di Firenze del partito nazionalista nel 1906 aveva inventato la brigata aretina degli amici dei musei farà costruire molto in città 1911 nel primo boom economico della sua storia lo stato italiano acquista la casa del Vasari per farne un museo di prestigio 1914 quella dei Savoia è una schiatta guerriera ma durante i taffierrugli in città fra neutralisti ed interventisti il prefetto ferrari sa già che la stragrande maggioranza della popolazione è contraria alla guerra e lo fa sapere a Roma 1915 1918 finisce la belle epoch inizia la prima guerra mondiale nel 1915 le donne aretine rimaste sole a casa organizzano il primo sciopero pacifista davanti alla prefettura raccolgono 300 firme contro la guerra chiedono il ritorno dei mariti a casa vogliono pane e carbone che iniziano a mancare si tratta di guerra di trincea più sanguinosa della seconda 1940 1945 di movimento produce più di 800 caduti uno ogni 18 abitanti della città ogni chiesa parrocchiale ricorda in una lapide i caduti del rione il fabbricone si converte all'industria bellica producendo aeroplani compreso quello personalizzato di dannunzio in volo su piena tornano le prime bare dei caduti al fronte via treno dei 600 mila caduti d'italia quasi 8 mila provengono dalla provincia di arezzo eroi di 18 28 anni classi dal 1887 al 1896 gettati in un conflitto che si sarebbe potuto evitare se solo garibaldi non fosse stato fermato più di 40 anni prima nella sua marcia verso vienna se i neo guelfi fossero arrivati dal presidente wilson a capo degli stati regionali italiani nella pace di versaie dalle guerre emergono anche momenti di solidarietà arezzo ospita generosamente i profughi delle zone devastate dal conflitto prima quelli di gradisca di sonzo e di monfalcone poi dopo caporetto quelli di sappada belluno si portano dietro anche i libroni dell'anagrafe ospiti soprattutto delle tenute dei nobili subiano in san fabiano carlo beni allestisce numerosi posti letto in zona fonte veneziana vengono requisiti alla bisogna tutti gli edifici pubblici ed ecclesiastici possibili compresi il convitto nazionale con la sua villa di agazzi ed il seminario diventano di volta in volta caserma ospedale abitazioni il sindaco matematico lelli difende il vescovo volpi dall'accusa di disfattismo crea un comitato civico di protezione civile che invia pacchi al fronte sostiene militari e famiglie organizza lotterie e serate di beneficenza per la raccolta dei fondi mobilita i parrusci nella ricerca di dispersi feriti prigionieri suor maria cartolari vincenziana degli istituti tevenin ed aleotti allestisce un nido di infanzia che raccoglie le piccole orfane di guerra che poi verranno chiamate nidine 1919 la spagnola una flogosi respiratoria fa più morti della guerra il contagio devasta soprattutto Rigutino e Stagiano dove anche 40 decessi al giorno impediscono di seppellire subito tutti i morti 1922 la prima squadraccia del fascio di Arezzo viene guidata da Alessandro del Vita 1923 Fiumicello Fiumicelli è il primo sindaco fascista 1925 la provincia creata da Leorena ha adesso un nuovo palazzo in stile retorico neoclassico e prefettizio con la sala dei grandi aretini affrescata da Adolfo de Carolis che disegna anche allegorie del lavoro una delle principali virtù aretine un inciso ma chi sono stimati oggi gli aretini più illustri della storia secondo Giosuè Carducci che è passato dalle scuole aretine basterebbe Arezzo alla gloria d'Italia siamo d'accordo secondo Wikipedia i primi dieci aretini sono mecenate primo secolo avanti Cristo protettore in epoca romana degli artisti Guido D'Arezzo 990-1050 ebbe il grande merito di aver fissato il sistema di indicazione approssimativo dei neumi segni dell'antica notazione del canto gregoriano per indicare le varie tonalità del canto Margaritone D'Arezzo pittore 1216-1290 Guittone D'Arezzo 1235-1294 poeta e prosatore Francesco Petrarca 1300-1374 poeta scrittore diplomatico Spinello Aretino 1350-1460 pittore e grande affreschista Pietro Aretino 1492-1556 poeta satirico Giorgio Vasari 1511-1574 architetto pittore scrittore Francesco Redi 1626-1698 medico scienziato e poeta Vittorio Fossombroni 1754-1854 uomo di stato matematico sovrintendente idraulico per la canalizzazione della bonifica della Maremma senatore dell'impero sotto Napoleone fra le New Entry Amintore Fanfani 1908-1999 economista scrittore prof di storia di storia economica ricercatore scrittore deputato e ministro dell'agricoltura presidente del consiglio due volte dal 1960-1963 dal 1982 al 1983 ed infine il fuoriclasse Michelangelo Buonarroti uomo di grandezza planetaria chiusa parentesi sui grandi di Arezzo torniamo al 900 1926 nasce la 1R che significa prima industria industria numero uno del distretto industriale aretino la fondano Gori e Zucchi un aretino ed un senese 1925 in stile neoclassico ottocentesco sorge il palazzo delle poste telegrafi in via Guido Monaco all'uopo allargata anche questo simbolo di progresso occupa un posto centrale negli sventramenti come a Firenze in via Pellicceria 1928 al prato sopra l'antico foro si inaugura il movimento a Francesco Petrarca figlio di un fuoriuscito fiorentino Salpetracco Leguleio 1931 viene ripristinata la giostra porta del Saracino la città viene divisa in quattro quartieri cioè in quattro parti in quattro quarti che fanno capo alle quattro porte di accesso della cinta di Mura Medicea porta del foro porta Sant'Andrea porta Crucifera porta Santo Spirito il Saracino indica che degli arabi musulmani è bene di fidare sin dai tempi dei martiri di Otranto dell'assedio di Vienna e della battaglia di Lepanto viene disegnato anche l'attuale logo del comune cioè il gonfalone comunale col cavallo nero rampante a destra aureolato dalla città turrita dentro lo scudo triangolare 1931 l'Accademia Petrarca ottiene una nuova prestigiosa sede rinascimentale in Casa Petrarca Via dell'Orto che occupa ancora oggi probabilmente della Casa Vera del Petrarca rimane solo un muro nell'edificio di fronte più verso il comune ma anche a Firenze la Casa di Dante non era proprio quella la sede convegnistica dell'Accademia Petrarca è comunque spaziosa ospita anche la biblioteca del Redi adibibile a mostre con una sala convegni in una location da favola l'antica città murata davanti al pozzo di Tofano quello della novella del Boccaccio 1933 arriva anche il manicomio moderno come San Salvio a Firenze che sostituisce l'angusta sede medievale 1934 la donazione del nobile Vincenzo Funghini arricchisce di pezzi pregiati sia il museo archeologico statale che il museo di arte medievale moderna già museo comunale 1935 nasce il suggestivo Viale del Re oggi Viale Bozzi da percorrersi in carrozza aperta ombreggiato sotto le antiche mura della fortezza ricorda il Viale dei Colli di Firenze che conduce al piazzale 1935 aperta piazza Umberto I oggi piazza del popolo 1937 fondato il brefo trofio 1937 nasce il palazzo del governo disegnato da Giovanni Michelucci il volto più rinascimentale della retorica del tempo riprende i moduli delle arcate del convento degli olivetani sopra l'anfiteatro ed è una dimostrazione di forza elegante del nuovo stato totalitario 12 novembre 1943 primo bombardamento grave alleato su Arezzo distrutta completamente la zona intorno alla stazione danneggiate le chiese di Santa Croce San Bernardo e San Pier Piccolo colpiti edifici anche di pregio come il palazzo del capitano palazzo pretorio palazzo altucci palazzo della Badia distrutte sei stanze del museo comunale 1944 il fronte di guerra si avvicina lo stato si squaglia come a Firenze il vescovo ed i suoi parruci sono l'unica autorità presente in città 16 luglio 1944 gli inglesi entrano in Arezzo con sindaco e giunta già eletti il 15 luglio dal comitato di liberazione nazionale il sindaco Antonio Curina è del partito d'azione i dieci della giunta sono due per ciascuno dei cinque partiti liberale d'azione socialista democratico cristiano e comunista architettonicamente il fascismo lascia una serie di palazzi in marmo e travertino non sprecevoli anche funzionali ad esaltazione dello stato nazionale centrale che la repubblica manterrà di proprietà statale riutilizzandoli secondo le proprie finalità Inail in piazza Guido Monaco Imp Dap ed Asle in via Guadagnoli Ims in angolo via Legiotto la stazione centrale in mattoncini rossi e balza in travertino come la sede provinciale del ministero del tesoro all'inizio di via Petrarca permettono grossi risparmi sulla manutenzione delle facciate il sottopasso ferroviario che porta al parcheggio Baldaccio e davanti la scuola Iti e la polizia di stato accanto proseguono il decumano ad est fuori le mura costituendo un moderno asse attrezzato ma anche palazzi eleganti con i primi balconi aggettanti e gli angoli tondi in via Crispi tra le opere pubbliche memorabili il ponte di Prata Antico che scavalca la Chiana potenziando via Fiorentina e la risistemazione del letto della Chiana sullo sviluppo di Arezzo durante il fascismo lascio adesso la parola a Monsignor Angelo Tafi Ubi Maior Minor Cessat quando c'è uno più bravo bisogna stare zitti ad ascoltarlo nel ventiagno fascista è doveroso notare insieme a gravi errori un notevole balzo in avanti dello sviluppo di Arezzo più che altro per merito di un illustre figlio di Arezzo il senatore Pierludovico Occhini che fu a lungo podestà della città e sempre a questa legato se nei primi venti anni del novecento l'accrescimento edilizio topografico di Arezzo era stato assai modesto alcune attività edilizia si è particolarmente rivolta alle costruzioni per uso privato poi si è dato grande impulso alla costruzione di importanti edifici di pubblica utilità la città ha avuto incremento sia all'interno della vecchia cerchia medicea sia all'esterno dentro la vecchia cinta sono state aperte verso il 1928 due belle strade moderne larghe e diritte ai due lati della piazza guida monaco e perpendicolari alla via omonima prima esistevano solo due brevissimi tronchi fino a raggiungere le vie lungo le mura dal lato orientale la nuova strada via Roma e via Crispi è stata incrociata con una trasversale che quasi rasenta l'anfiteatro romano via Margaritone sistemato opportunamente a Prato e Giardino dal lato occidentale la via Petrarca l'inizio delle costruzioni sul poggio del sole la prefettura ed altri uffici pubblici vennero poi le caserme e la scuola allievi ufficiali via Portavuia il proseguimento della copertura del torrente Castro l'apertura della nuova via della Minerva i viali dei re dell'ittorio fuori della cinta medicea grande crescita del quartiere di Saione con diverse strade che sboccano sul via Vittorio Veneto la via Masaccio parallela a questa e lo stadio nella piazza Darmi il laboratorio provinciale di Gene il brefotrofio il crescimento dei quartieri orientali della città zona Santa Croce con l'ospedale finito di costruire prima del ventennio ed il sanatorio 1933 minore e più discontinuo l'accrescimento della città verso occidente nullo quello verso settentrione questa breve sintesi del geografo Aldo Sestini pubblicata nel 1938 non accenna al restauro ed al ripristino dei monumenti medioevali né agli errori fatti per ciò che riguarda il meritorio ristauro dei monumenti occorre segnalare quanto eseguito in piazza grande che riprese pur con qualche falso il bellissimo aspetto medioevale specialmente i palazzi Lappoli e Cofani il palazzo della torre comunale il palazzo pretorio l'anfiteatro romano e il monastero degli olivetani che fu trasformato in museo archeologico purtroppo venderò compiuti degli errori irreparabili e non vennero ascoltate le voci che si levarono contro certe decisioni gerarchiche la più grave fu quella di non lasciare la dolcissima collinetta del poggio del sole a zona verde di giardini e di passeggiate poteva essere per Arezzo una stupenda zona panoramica ed infatti si gode dal poggio del sole un bellissimo panorama della città antica ed è diventata invece una giungla di costruzioni altra decisione sbagliata almeno a parer mio è stato l'abbattimento sconsiderato della cinta muraria medicea cominciato come si è detto alla fine dell'ottocento ma ripreso in grande stile durante il ventennio fascista e continuato anche dopo come si vede tutti d'accordo contro le vecchie mura ma non era proprio possibile trovare per esse una ricorosa sistemazione che le salvasse e che non danneggiasse lo sviluppo della moderna Arezzo altra decisione sbagliata fu l'abbattimento di molti edifici del passato per erigere in quelle aree brutti casermoni senza stile e senza gusto penso specialmente a certi conventi e monasteri come quello detto delle murate in via portabuia con un bellissimo chiostro al cui posto furono erette le caserme finisce la citazione dal Tafi il prete ha ragione il poggio avrebbe potuto essere come il piazzale per Firenze del periodo fascista nessuno parla perché non è politically correct perché viene fuori Chiarezzo fu città fascistissima come Firenze come buona parte del centro nord d'Italia l'origine del fascismo ad Arezzo ebbe luogo come si legge in una relazione curata dall'autorità di pubblica sicurezza nel dicembre 1920 da quel momento in poi nella città e nei comuni limitrofi fu tutto un susseguirsi di fatti anche molto gravi tra fascisti socialisti anarchici radicali la destra conservatrice e i reduci di guerra siamo nel 1918-19 era dal tempo di Guelfi e Ghibellini che non ci si scontrava così sanguinosamente la guerra civile ebbe un ritorno di fiamma nel biennio 43-45 i cattolici cercheranno di far da paceri con modesti risultati nel 20-21 molte sezioni di partito furono devastate e date alle fiamme senza che spesse volte le forze dell'ordine potessero volessero intervenire nelle elezioni del 15 maggio 1921 con i primi brogli il risultato fu favorevole al blocco formato dai fascisti ex combattenti e liberali il movimento fascista si trasformò ben presto in partito novembre 1921 con prevalenza di elementi di destra come Alfredo Frilli e Dario Lupi l'ala estremista del partito fascista era rappresentata dal Frilli mentre l'ala moderata da Dario Lupi in questo periodo si ebbe una crisi interna al partito una lotta di potere interna al partito nazionale fascista che provocò anche la scandalizzata riprovazione del duce detto questo gli anni che vanno dal 1929 concordato con la chiesa al 1937 vittoria nella guerra d'Etiopia segnarono il definitivo trionfo del fascismo ad Arezzo in sintonia con quelli che il professor Renzo De Felice avrebbe definito gli anni del consenso interrotti solo dalle leggi razziali contro gli ebrei del 1938 all'epoca della guerra in Etiopia il consenso degli aretini arrivò anche da parte di quei gruppi che avevano un certo risentimento contro il fascismo le sanzioni cementarono ancora più la compattezza della popolazione contro i nemici affamatori gli alleati la 96esima legione Francesco Petrarca composta da camisce nere fu accompagnata e salutata dal podestà Luigi Occhini con numerosi auguri per il favorevole esito dell'impresa in Africa orientale la costituzione dell'impero incontrò il favore dei combattenti dei reduci e registrò anche un aumento dei consensi al partito il fascismo oramai attraverso le varie organizzazioni era entrato in tutti i rambi della vita sociale dando origine alle cosiddette corporazioni cercando di ricreare dall'alto quelle forze che dal basso avevano costituito il libero comune medievale manifatturiero e mercantile furono costruiti uno stadio e numerose palestre come al tempo dei romani oltre alle manifestazioni sportive il partito si preoccupò di creare delle manifestazioni folcloristiche tra le quali la giostra del saracino dal 1931 nella festa dell'uva furono create colonie marine montane e rurali così molti bambini e retini delle classi più povere poterono per la prima volta vedere il mare di Cesenatico seppure in colonie marine che assomigliavano a piccole caserme la seconda guerra mondiale arrivò per l'italia con un anno di ritardo durante la non belligeranza tra i fascisti prevalse una linea di assoluta rigidezza politica basata totalmente sugli ordini del duce che si concretizzò nel ritorno a galla dei duri e puri vecchi squadristi estremisti fin dall'inizio della guerra 1940 il malcontento si era diffuso in tutti gli strati sociali e ciò era dovuto al razionamento dei viveri alla partenza di numerosi battaglioni per il fronte e al ritorno dei primi feriti e morti nel 1942 la direzione del partito in città passò dal federale Romualdi a Bruno Rao Torres senza che ci fosse alcun cambiamento nella gestione del potere all'opposto la popolazione di fronte alle sconfitte subite dall'esercito su ogni fronte cominciò a non credere più ai millantati successi rimpinguando invece le file degli antifascisti nel 1943 ci furono i primi scioperi da parte degli operai ai quali si associarono anche molti studenti e numerosi cittadini di ogni classe sociale il 25 luglio 1943 crollò il movimento fascista con grande gioia della popolazione aritina che vedeva in questo evento la fine della guerra e delle sofferenze invece il peggio doveva ancora venire dopo l'armistizio tra l'Italia e gli alleati 8 settembre 1943 i tedeschi sentendosi traditi invasero Arezzo e cominciarono a rastrellare i lavoratori e a internarli nei campi di lavoro in Germania come si vede nel film La vita bella di Benigni nel frattempo ad Arezzo il passaggio dal vecchio fascismo al nuovo la Repubblica sociale italiana RSI avvenne senza traumi al posto del federale Bruno Rao Torres diventato prefetto e capo della provincia si sostituì Bruno Leoni intanto si andavano sempre più organizzando le brigate partigiane specie nell'alta Valtiberina e sul Prato Magno guidate dal comunista Aligi Barducci il mitico potente Fiorentino e dall'aretino Pio Borri che occuperà il palazzo comunale per conto del CLN Comitato di Liberazione Nazionale prima dell'ingresso in città dei carri armati inglesi e delle truppe del Commonwealth guidate da indiani col turbante a cavallo nel 1944 aumentarono a dismisura le ritorzioni dei tedeschi verso i partigiani iaretini e la popolazione con grave disagio e sbagliamento di sangue dall'una e dall'altra parte oramai eravamo stati derubricati da alleati a popolazione ostile come gli slavi dell'est Europa quindi massacrabili nella misura di dieci contro ogni soldato tedesco ucciso gli alleati in avanzata trovarono i corpi insepolti di civili barbaramente uccisi mulinaccio san polo civitella troppi morti innocenti troppi tedeschi dati in pasto ai maiali o gettati nei pozzi provocando così la rappresaglia l'esercito in ritirata oramai si stava imbarbarendo in stupri furti violenze di ogni tipo nemmeno rifugiarsi in chiesa dava garanzia di aver salva la vita d'altra parte i bombardamenti alleati si facevano sempre più pesanti cominciati la sera del 12 novembre 1943 particolarmente gravi furono quelli del 2 dicembre 1943 e del 15 gennaio 1944 avevano distrutto o danneggiato chiese Santa Croce San Bernardo San Pier Piccolo edifici di interesse artistico notevole Palazzo del Capitano Palazzo Operatorio Palazzo Altucci l'ex monastero degli Olivetani a San Bernardo il Palazzo di Badia due dei quali ospitavano il museo archeologico e quello medievale con la Pinacoteca edifici pubblici Palazzo del Governo del Comune del Genio Civile della Questura scuole istituto magistrale l'ospedale neuropsichiatrico la cantina sperimentale il laboratorio di cena e quasi al completo tutti gli stabilimenti industriali ma era la gente a far pena come si legge nei diari del tempo dopo il bombardamento alcuni inebetiti stavano fermi sguardi fissi nel vuoto con le braccia cadute sui fianchi altri correvano come invasati scappando verso la campagna altri ancora scavavano con le mani e le unghie strappate alla ricerca dei loro parenti sotto le macerie 1943 i partigiani attaccano l'aeroporto tra Pescaiola e Agazzi col capo brigata Aldo Verdelli che riesce a rubare anche armi pesanti gli alleati lo bombardano a volo radente prendendo di sorpresa gli addirati tedeschi la leggenda vuole che nei bunker sotterranei oggi sotto gli hangar della scuola di paracadutismo tenuta da Ilario De Marchi si aggirino le anime inquiete dei militivi rimasti sepolti assieme ad un discreto arsenale che dissepolto potrebbe allestire un interessante museo della seconda guerra mondiale l'aeroporto oggi appartiene al demanio di stato i tedeschi ritirandosi avevano distrutto tutti i ponti il materiale rotabile ferroviario le centrali elettriche del gas esercito alleato trovò la campagna retina deserta di contadini in agosto il grano non era ancora ammietuto la città priva di gran numero degli abitanti l'unica autorità rimasta al suo posto era l'energico vescovo quasi ottantenne Monsignor Emanuele Mignone nei sotterranei del suo palazzo avevano trovato rifugio lo scrittore fiorentino convertito adulto Giovanni Papini ed il matematico aretino Francesco Severi il vescovo era di nuovo ritornato ad essere il defensor Civitatis l'ultimo difensore della città l'unico che non abbandona la nave come era già avvenuto durante le invasioni barbariche la più funesta devastazione subita assieme alla guerra greco-gotica e dalla liberazione anglo-americana bombe non solo sulla stazione dove fu distrutta la copertura a tunnel come a Milano ma anche sul corso sulla casa museo Ivan Bruschi su Colcitrone dove non c'erano obiettivi militari la città non era difesa dalla contraerea gli attacchi notturni erano illuminati dai Bengala la paura aumentava sempre di più e costrinse gli abitanti a fuggire dalla città alla fine di aprile 1944 in città si contavano appena cento abitanti come durante l'occupazione francese dei primi dell'ottocento il bando di Mussolini che prometteva un ultimo appello di amnistia verso i partigiani che si fossero consegnati spontaneamente alle autorità non ebbe effetto i partigiani invece accesero dei fuochi su tutto l'appennino toscano a significare che la resistenza continuava il 15 luglio 1944 Arezzo fu liberata dalle truppe alleate ma le principali autorità fasciste il commissario federale Leoni il capo della provincia Melchiorri l'ex deputato ed ex federale Bonaccini si erano allontanati dalla città per seguire i tedeschi questi insieme ad alcuni aretini fuggiaschi si erano rifugiati a Besozzo Varese e il primo gennaio 1944 costituivano la compagnia Arezzo con 90 uomini a questo piccolo gruppo di estremisti da Besozzo l'ultimo federale Bruno Leoni chiedeva un'ennesima mobilitazione collettiva per l'arruolamento dei 250 uomini necessari per la costituzione di una brigata nera intitolata a Don Emilio Spinelli educati al culto della patria romana pagana sognavano un ritorno trionfale da vincitori in Arezzo che non avverrà mai gli inglesi prima di entrare in città con i carri armati lasciano che le opposte fazioni regolino i conti fra di loro ciononostante per la liberazione di Arezzo gli alleati dovranno sacrificare ben 1262 soldati molti del Commonwealth cioè delle loro colonie australiane e indiane che riposano nel cimitero di guerra di indicatore tante croci bianche sul manto erboso verde furono visti per la prima volta gli indiani Sikh a cavallo e col turbante abili scovatori di terra fresca smossa per nascondere vigliori comandavano gruppi di bambini a cui ordinavano anche di aprire i pozzi neri alla ricerca dei tesoretti familiari sarebbero tornati 60 anni dopo come pulimentatori che lavorano 18 ore al giorno dormendo sul posto di lavoro quando le truppe alleate entrarono in città le condizioni di Arezzo erano davvero tragiche mancava l'acqua mancava la luce e dappertutto macerie i bombardamenti anglo-americani avevano distrutto gravemente lesionato la metà delle abitazioni tenuto conto di questo delle molte requisizioni operate circa 10.000 retini rimasero senza tetto si stava meglio nella conca anche se il mercato nero non permetteva di fare grossi acquisti con gli americani arriva la cioccolata ma anche nuovi animali da cortile come i porcellini di india finita la guerra si scopre che solo nel biennio 1943-45 855 persone mancano all'appello sono quasi lo stesso numero dei soldati morti durante la prima guerra mondiale ma le moderne guerre di movimento fanno più vittime fra i civili che fra i militari come sarà evidente quando gli americani svilupperanno la tecnica dei bombardamenti a tappeto in Corea e Vietnam soprattutto sulla giungla le vittime aretine sono 145 partigiani e volontari uccisi in combattimento con i tedeschi o da questi fucilati o impiccati 20 militari o civili deportati in Germania e morti in campo di concentramento 120 civili fucilati o impiccati dai tedeschi o dai fascisti repubblichini 4 civili uccisi dalle truppe alleate 205 uccisi dai bombardamenti aerei e 154 dalle artiglierie e degli eserciti combattenti 98 deceduti per scoppio di mine e 43 per esplosione di altri ordigni 12 uccisi da automezzi tedeschi e 36 da automezzi degli alleati e infine 28 civili deceduti per cause varie i Savoia lasciano agli aretini la grande ferrovia i viali ortogonali in centro segni di progresso e di modernità